La comunità Macedonia e l'Aquila è molto numerosa, con oltre 700 residenti, una comunità ben integrata, con 300 partite IVA e 250 posti di lavoro creati, con un fatturato consuntivo anno del 2021 di 13 milioni di euro e un fatturato dell'anno in corso pari a circa 22 milioni di euro, risultato di uno studio portato avanti dall'associazione locale. L'associazione culturale Lirindia ha organizzato un momento di incontro a Palazzo Fibioni per parlare di integrazione alla presenza dell'ambasciatore della Repubblica del Nord a Roma, Vesel Memedi, in visita all'Aquila per la seconda volta. Il presidente dell'associazione Lirindia, Abdullah Duli Salini, è sempre molto attivo, promuovendo tante attività, del resto la comunità è prodata in città fino agli anni Ottanta. È un fatto di collaborazione, di bilateralità tra la comunità macedona e la comunità italiana. Il fatto che siano venuti qui ha fatto sì anche di apprendere maestranze, professionalità e conoscenza, ma è anche importante che la comunità porti di suo quello che ha già nella valigia da immigrato. Quindi far sì che si crea questa collaborazione di conoscenze reciproche per un'integrazione migliore. 118 comunità straniere presenti nel comune dell'Aquila. La comunità macedone, tra le comunità non appartenenti all'Unione Europea, è quella più numerosa, oltre i 700 residenti nel comune dell'Aquila. Approdata in città nei fini anni Ottanta e oggi, con la sua terza generazione, ha questo primato di prima comunità più numerosa all'Aquila. Perché come sappiamo tutti i fenomeni naturali non si possono eliminare, non si possono bloccare, ma bensì cercare di gestirli attraverso progetti concreti da mettere a terra e riuscire a realizzarli concretamente in tutte le sue modalità. A benedire l'incontro anche l'assessore alle politiche sociali del comune dell'Aquila Emanuela Turzini. E c'era pure confartigianato con il presidente Angelo Taffo, perché confartigianato sostiene molte imprese macedoni. Un momento importante, questo convegno è sicuramente un'occasione per parlare, per argomentare sui vantaggi economici e sociali di una buona integrazione. La comunità macedone è un esempio, una comunità viva, perfettamente integrata, che nonostante ancora non faccia parte della comunità europea, è un esempio di integrazione, di efficacia di questa integrazione. Grazie.